Una commedia senza pietà, lei ha evitato tutti i cliché che potevano nascere, come ci siete riusciti? Beh, è difficile rispondere a questa domanda, probabilmente perché siamo in due, quindi uno fa la guardia all'altro in qualche modo e l'altro dice sempre, beh, siamo andati troppo oltre, forse troppo e troppo poco. E poi soprattutto, devo dire, siamo stati fortunati a avere questi due attori fantastici che sono rivelati una vera e propria garanzia per il film. Quindi l'esperienza di recitazione di François e soprattutto questa verità e questa naturalità di Omar. La verità di l'actore è la naturale e la verità. Senta, girando quasi amici, avete mai pensato all'educazione sentimentale, perfino a My Fair Lady, cioè a tutti elementi che ricorrono in questa storia di grande amicizia e di grande verità? Cioè quello che colpisce è il suo pragmatismo fino all'ultimo, voi lo evocate ma nel film c'è. Avete mai pensato a questi riferimenti di rapporti? Diciamo che ci siamo ispirati soprattutto a quei film in cui sono due le persone che chiaramente hanno una ricchezza tale che in qualche modo poi si completano e imparano gli uni dagli altri. Non lo dico perché sono qui in Italia ma diciamo la fonte di ispirazione dei nostri film sono sempre stati i film italiani, per esempio, tanto per fare un esempio il Sorpasso, dove appunto vediamo questo Jean-Claude Tentignan, che è lo studente diciamo un po' ingenuotto, a cui invece Gasman, che ha una grande esperienza di vita, in qualche modo apre gli occhi. Un altro elemento molto importante del film è il suo legame con la realtà. Noi alla fine crediamo di vedere questa storia perché è una storia divertente ma anche radicata un po' in malinconia. Si parla di tanti remake, quale consiglio darebbe a quelli che vogliono affrontare questa narrazione? Perché voi avete trovato una formula perfetta, è difficile forse replicarla? Di fare un buon casting, perché questo è importante, questo gioca molto, di avere i buoni... Beh, innanzitutto il suggerimento è di fare un buon casting, gli attori sono fondamentali, e poi soprattutto direi di non lasciarsi trasportare troppo dalle emozioni, non scadere nel sentimentalismo. Direi che questo è un film appunto molto importante dove c'è uno sguardo dell'uno sull'altro e bisogna trovare proprio in questo aspetto l'equilibrio fra sensazioni, emozioni e umorismo. A volte ci si rende conto che si ha voglia di lasciarsi andare, di lasciare un po' da parte la realtà, invece non bisogna mai perdere di vista. La realtà, io spesso dico, è un po' una tendenza che c'è anche nelle comedi americane, quelle che si chiamano i comedi concept, a trovare dei principi e dei concetti sui quali far ridere. Credo che invece a volte la realtà sia una fonte inesauribile di vista.